Dylan Dog old boy numero 12 con due storie dal titolo l'invasione degli ultraschermi e dottor graucio e mister dylan troppo sì direi di sì uobalaba dab dab e bentornati su un nuovo ammazzo e bentornati nella rubrica fumetti nella rubrica dedicata a Dylan Dog in particolare quest'oggi parleremo dell'old boy con lana che ho ripreso dopo diversi mesi di bimestri anzi di assenza perché il titolo del bimestre scorso mi aveva incuriosito non mi era neanche dispiaciuta la storia e devo dire che anche questo mese mi aveva incuriosito sia la copertina e sia i due titoli in particolare quando c'è di mezzo la citazione l'invasione degli ultraschermi all'invasione degli ultracorpi e dottor graucio e mister dylan ovviamente dottor jekyll e mister hide sono stato molto non lo so preso all'amo soprattutto la storia dottor graucio e mister dylan perché a me da sempre la dualità di dottor jekyll e mister hide mi è sempre affascinato prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri del canale che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno alte aspettative di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto e di questo video seguitemi anche sugli altri miei social tra cui instagram e twitch per esempio non poco non molto tempo fa ho fatto una live in cui abbiamo fatto una tier list una classifica dei migliori dylan dog tra i primi 100 e magari ci potrebbero essere anche future live a tema dylan sicuramente ci saranno anche future live a tema samuel sterna oltre agli altri argomenti che porto su twitch quindi seguitemi anche su twitch dylan dog old boy allora bando alle ciance arriviamo subito al sodo devo dire che questo numero l'ho letto con molta molta fatica da qui anche il fatto che non ne ho parlato subitissimamente allora c'è da dire una cosa io amo le citazioni un po come tutte le persone nerd che sono state abituate molto molto bene negli ultimi anni a questo crescendo di fanservice fino a diventare quasi ossessivo amo le citazioni non amo tantissimo il plagio nel senso che dylan dog da sempre ha citato anche intere opere cinematografiche horror d'azione è già capitato in altri ambienti però ha comunque sempre cercato di tenersi sul filo del rasoio sull'essere esplicito ma non al limite del plagio anche in questo numero devo dire che purtroppo il livello di citazione alle varie opere una su tutti mi riferisco per ora mi riferisco alla prima storia una su tutti il rock horror picture show che è preso praticamente paro paro nelle prime pagine per me è stato troppo non ho proprio accolto bene le prime pagine ecco a parte la prima pagina in assoluto che ha anche una fantastica citazione a labyrinth questo è uno dei batocchi di labyrinth se amate labyrinth dovete notarlo e poi ecco l'inizio così rocky horror sono arrivato ve lo dico proprio per pagine a pagina 10 in cui c'era praticamente questa palese citazione al personaggio di tim carrie in rock horror picture show che mi sembrava davvero troppo troppo uguale ecco quindi questa cosa non mi è piaciuta tant'è che ve lo dico chiaramente sono passato prima alla seconda storia e poi l'ho letta poi ve ne parliamo insieme e poi dopo aver letto la seconda storia ho detto leggiamo anche la prima continuiamo anche la prima 6 e 90 vuoi non leggerla cazzo cioè non sono un collezionista che compra i dylan e li mette nella nella libreria perché si è dimenticato come si legge io li leggo mi piace leggere tutto quello che compro leggo persino le note in calce perché ho pagato anche quelle cazzarola e niente allora ho continuato e ho capito che questa storia davvero non va letta di un fiato nel senso che l'ho letta comunque a spezzoni ho continuato devo dire che sono stato molto rapito nella scena di pagina 21 quando appunto le carte in tavola cambiano e si capisce diciamo che che questa palese citazione non è altro che appunto una sorta di teatro in cui dylan dog era stato coinvolto e allora con queste premesse posso già concepire di più questa storia ovviamente non è stato detto all'inizio è stato detto più o meno a pagina 20 quindi bisogna un attimo non resistere fino a pagina 20 però ciò nonostante questa è un'opera che è fondamentalmente una sorta di scatole cinesi cioè una storia dentro la storia dentro un'altra storia dentro un'altra storia dentro un'altra storia dentro un'altra storia è una cosa molto all'avanguardia anche per dylan dog e devo dire che è una cosa che si può trovare tranquillamente in un cartone animato di ricche morti che io non sto citando a caso perché poi ne voglio parlare approfonditamente nella seconda storia però non lo so ecco dylan dog in questo in questo contesto non lo so non ce lo vedo benissimo cioè a me piace che dylan dog sia così trasversale da poter toccare più più argomenti più generi narrativi ma non è che perché dylan dog è un'icona pop della cultura italiana che allora deve fare il verso a qualunque cosa esista ecco questa è una storia che non mi è come si dice mi è piaciuta quando ho finito di leggerla ma non mi piaceva mentre la leggevo è una cosa molto strana e anche per carità è un'emozione anche questa è un'emozione diversa che ha suscitato quindi da questo punto di vista complimenti mi avete fatto suscitare emozioni contrastanti che non pensavo di provare con dylan dog quindi se era questo l'intento ci siete riusciti nel finale finalmente si scoprono si scopre finalmente la fabula da questo intreccio narrativo molto complicato e molto appunto a scatole cinesi e devo dire che una volta arrivato alla fine l'ho apprezzato devo dirvi che mi sono fermato poi a pagina di nuovo fino a pagina 76 quando c'è il titolo che rappresenta in modo ancora più esplicito che stiamo entrando in un'ulteriore storia mi sono fermato ulteriormente e le ultime 20 pagine le ho lette il giorno dopo ecco quindi io vi consiglio se questa storia non la state digerendo bene non l'avete digerita bene l'avete abbandonata vi consiglio di leggere 20 pagine alla volta fermarvi andare avanti il giorno dopo o magari il giorno dopo è un po' tardi magari 10 minuti dopo o mezz'ora dopo fare qualcosa nel frattempo e andare avanti perché posso capire che questa storia è molto disorientante il finale la salva però il finale salva la mia percezione di questa storia molto interessante parliamo invece della seconda storia che poi è stata quella che io ho letto per primo e devo dire che sono stato molto deluso da questo titolo un pochino furviante io mi aspettavo di vedere appunto una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde che coinvolgesse Graucio e Dylan invece semplicemente questo titolo Dr. Graucio e Mr. Dylan è quanto si poteva fare di più per citare l'opera a cui si ispira questa storia questa storia è paro paro la sigla di Rick e Morty Rick e Morty è un cartone animato per adulti di cui io faccio sempre all'apertura faccio sempre il saluto di Rick che è Wabalaba Dub Dub quindi mi piace molto Rick e Morty in cui nella sigla si vede proprio questo scienziato Rick che è una parodia di Doc di Ritorno al Futuro e Morty che è una parodia di Marty di Ritorno al Futuro che continuano a correre non avanti e indietro nel tempo ma continuano a correre nelle varie dimensioni multiversali proprio per non fare totalmente il verso a Doc e Marty e qua fondamentalmente Graucio interpreta la parte di Rick fondamentalmente perché è il più matto dei due e anche il più anziano dei due e quindi entra questo strano Graucio che da subito non è il Graucio che Dylan conosce che un po' magari fa anche il verso alla collana 666 questo Graucio che non era Graucio e come un Rick de No Altry rapisce diciamo questo Dylan e lo porta con sé in una delle sue avventure che comporta il passare diverse dimensioni ecco ovviamente ho apprezzato tantissimo il fatto che mano a mano che cambiavano le dimensioni gli universi cambiava anche lo stile di disegno questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo mi è piaciuto un sacco proprio che cambi lo scenario come cambia la realtà multiversale questa cosa l'ho apprezzata un casino diciamo che mi è un filino ma un filino scaduto quando la pistola che in questo contesto Graucio utilizza non per passarla a Dylan ma la utilizza come Rick utilizza la sua pistola a sparaporte quindi spara con la pistola di Dylan e crea un portale a un certo punto se non fosse abbastanza esplicito la chiama proprio la sparaporte ecco lì mi è un pochino scaduta perché si è passato appunto dalla citazione estrema a quasi a quasi la copia di Rick e Morty cioè io avrei proprio preferito se questa cosa si mantenesse un attimino sul non detto ma non fa niente va bene così in tutto questo viaggio in tutta questa corsa che appunto cita la corsa affannosa della sigla di Rick e Morty oltre a cambiare anche gli stili di disegno si citano all'interno di ogni storia altre pellicole cinematografiche questa volta di fantascienza ovviamente si cita Alien si cita Predator si cita anche Guerre Stellare c'è un Wokie a un certo punto della storia si citano anche sicuramente opere cinematografiche che io non ho visto adesso qui senza saperne leggere né scrivere secondo me si cita Blade Runner anche se al momento non mi stanno venendo in mente dei riferimenti la parte cartunesca è una di quelle che mi piace di più perché spiega un pochino il paradosso del viaggio nel tempo di pochi secondi c'è anche un nemico che gli insegue c'è una fidanzata di Dylan che è praticamente una versione femminile di Graucio perché si trova quasi meglio con Graucio che con Dylan e poi effettivamente c'è un Graucio cattivo che è il Dottor Graucio che poi scopriamo alla fine è semplicemente un essere di un'altra dimensione che ha assunto l'aspetto di Graucio perché il suo aspetto reale che vediamo alla fine è troppo raccapricciante per poter essere accettato da noi umani c'è anche una fantastica citazione a lungo addio quando Dylan si perde appunto nei meandri della sua mente quindi devo dire che tra le due storie la seconda l'ho apprezzata di più devo dire che in tutte queste versioni fantascientifiche della realtà la realtà più distopica che mi ha colpito in questo contesto è quando Dylan Dog e Graucio degli anni Ottanta si ritrovano nella Londra del 2020 deserta a causa della pandemia e vedere che i poliziotti chiedono a questi due ignari passanti un lascia passare senza dare spiegazioni ma semplicemente pretendendolo solo perché loro non sapevano in che luogo in che mondo si erano trovati mi ha fatto sentire quanto siano stati distopici gli ultimi due anni trascorsi con la pandemia visti appunto dall'occhio di qualcuno che viene totalmente da fuori quindi è stato un'esperienza estracorporea che mi ha colpito molto e quindi chapeau a questa piccola citazione di realtà che a volte supera l'orrore che a volte supera la fantasia promuovo il numero devo dire sì ma no nel senso che ho sentito tutto il prezzo dell'albo mentre leggevo in maniera molto affaticata quindi non sono sicuro che continuerò la collana dell'old boy sicuramente io la la leggerò ogni tanto magari se anche voi stessi me lo suggerite quindi se voi quando io magari parlo della serie regolare parlo del color fest ma ho anche in un altro video non è un problema in cui parlo di altro scrivetemi nei commenti ti consiglio questo mese questo bimestre di leggere l'old boy e allora lo valuterò quantomeno di sfogliarlo in edicola e di vedere se a mio a mio gusto potrebbe piacermi leggerlo e potrebbe piacermi parlarne con voi però non sarà una cosa regolare quindi la decideremo un pochino insieme questo è quello che avevo da dire su questo Dylan Dog old boy che trovate tuttora in edicola quindi il mio consiglio è se amate la fantascienza se amate ricche morti se amate le dimensioni parallele le storie che vi spaccano la mente ve lo consiglio se volete un Dylan Dog classico a questo giro non vi consiglio l'old boy vi consiglio la serie regolare io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.